ebbene sì la location è diversa perché oggi ci sarà un annuncio particolare sul canale quindi rimanete sintonizzati mi raccomando ascoltate il video fino alla fine perché ci sarà qualcosa di davvero molto importante e prima di andare al vivo vero e proprio del video vi ricordo che c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete poter skipparlo ma io come sempre vi consiglio di non farlo CDK deals è il sito dal quale acquistare le chiavi per i vostri videogiochi e i vostri software grazie alla loro promozione back to school potrete avere fino al 30 per cento su una marea di software utili a tutti gli studenti basterà cercare il prodotto da voi desiderato nella barra di ricerca selezionare tra i prodotti che usciranno appunto dalla ricerca e inserire il fantastico codice sconto g30 per un ulteriore 30 per cento di sconto su un prezzo già molto conveniente continuare poi col vostro ordine scegliere il metodo di pagamento da voi preferito rendervi conto di come nel vostro user center sia già presente la chiave del software da voi acquistato basterà dopo copiare la chiave del vostro software scrivere attivazione nella barra di ricerca di windows e incollarla nella casella corrispondente CDK deals che storia siamo nella ridente zona rurale vicino al mio paese più precisamente la valle delle pesche che è una zona di montagna in cui praticamente a ferragosto la gente del luogo viene a bere a fare baldoria e la potete cercare su internet è un luogo molto molto carino e riusciamo a vedere la via di qua praticamente penso ci siano 20 gradi di inclinazione quindi non è proprio la cosa migliore se volete salire con una macchina come la mia cioè una punto a metano eccola qua ad ogni modo ragazzi sono qui per darvi un annuncio molto importante e cioè il punto di g si si espande si espande in che senso nell'ultimo periodo mi trovo molto molto poco stimolato nel fare video che riguardano che riguardino soltanto il l'ambito tech perché non reputo che in questo periodo ci siano delle news abbastanza interessanti che prima di tutto rendano me contento di fare un video al riguardo e non avendo poi uno studio nel quale poter fare gli esperimenti come vorrei ho bisogno di spaziare un pochettino su altri argomenti quindi mi è venuto in mente questa cosa cosa faremo il punto di g principale rimarrà questo qui e cioè il punto di g tech aprirò poi nei prossimi giorni un secondo canale che si andrà a chiamare il punto di g gaming fermi voi direte oh mio dio ti vuoi mettere a fare i gameplay in cui bestemmi contro i videogiochi no assolutamente dato che il canale twitch tra alti e bassi della mia connessione internet va comunque abbastanza bene cosa deciderò di fare deciderò di registrare per bene ogni sessione che io farò in live ci troveremo un gioco una tematica qualcosina dopodiché dividerò il tutto la registrazione che sarà due ore due ore e mezzo la regista dividerò in circa 5 6 7 video in modo tale da coprire la programmazione settimanale del secondo canale e quindi andremo a riempire i buchi di programmazione ripeto il canale principale cioè il punto di g tech rimarrà questo qui ci sarà un pochettino un restyling grafico in modo da dare un look più tech al tutto e il punto di g gaming sarà appunto il canale un pochettino meno serio il canale un pochettino dove potremmo divertirci un po di più quindi in descrizione nei prossimi giorni quando il canale sarà online vi lascerò il link al canale di gaming tenendo le dita più che incrociate in un paio di mesi 3 4 mesi riusciremo riuscirò comunque grazie al vostro supporto a prendere la partnership su youtube anche lì e magari riuscire a portare qualità sempre maggiore perché sapete raga la qualità su questo canale è la parola d'ordine e infatti vi sto a fare questa ripresa con un setup effettivamente che pesa beh 3 kg da tenere in braccio è molto molto fastidioso quindi ringrazio tanto il mio amore che me l'ha tenuto fino a mo grazie teso spero che abbiate passato un buon ferragosto tutti quanti quando vedrete questo video io sarò sicuramente sopra una montagna insieme ragazzi a fare baldori a fare cose strane e dalla settimana prossima si cominciano cose molto molto belle cose molto divertenti ringrazio la mia fidanzata che mi ha fatto da cameraman puoi salutare con la mannina secondo me mi cade la camera tieni forte fai così ciao benissimo grazie ti ricordi cosa devono fare i nostri amici a casa innanzitutto mettere mi piace iscriversi al canale e poi accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto dg e nulla ci vediamo il prossimo video con una nuova avventura dal punto dg è tutto nel frattempo qua passa la macchina avete visto chi sale qua praticamente la gente con la vespa che impenna ma va bene come ho detto dal punto dg è tutto ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto dg e magari sul punto dg gaming sempre qui col vostro g un saluto a tutti e ciao ciao belli adesso facciamo una chiusura alternativa dove ti riprendo da testa a piedi quando saluti tutti perché perché è bello aspettate